Ha chiesto la parola all'onorevole Sbai. Prego, onorevole Sbai. Grazie, Presidente. Mi unisco alle parole della collega che mi ha proceduto per auspicare anch'io che la giornalista Roxana venga liberata urgentemente e il mio intervento di questa mattina farà anche per Roxana e spero che questa situazione venga risolta immediatamente. Non solo le donne del PDL o le donne del PD, ma tutte le donne italiane devono unirsi per liberare Roxana. Oggi pomeriggio alle 4 ci sarà una manifestazione davanti all'ambasciata iraniana e speriamo di esserci invitanti. Grazie. Grazie, onorevole Sbai.